E' più dell'equilibrio, l'equilibrio dell'arte deve essere squilibrata, ha detto, deve ricercare però l'armonia, insomma sono due concetti interessanti. Credo che proprio anche per i valori che esprime questo Papa, credo che si vada un po' oltre a certi steccati ideologici. Lei si sente un po' bambino, come dice il Papa? Io sono un eterno bambino e cerco di mantenere questa fanciullezza pura, intatta, perché lo sguardo del bambino è poetico. Con alcuni non ci vedevamo un sacco di tempo, altri invece, Ken Loach che è stato sempre un mio mito che non avevo mai visto dal vivo. La strada dell'arte, la strada della bellezza, la strada dell'invisibile, la strada dell'inconsimo, è una strada straordinaria proprio per permettere a chi crede e a chi non crede di dialogare.